Novena in onore a San Giovanni Maria Vienney Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ti amo, mio Dio, e il mio unico desiderio è di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita. Ti amo, o Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. Ti amo, Signore, e unica grazia che ti chiedo, è di amarti eternamente. Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente. Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante, ti amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. Ti amo, o mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me, e mi tieni qua giù crocifisso con te. Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo. Terzo giorno La ricerca dei beni eterni Donaci, Signore, per l'intercessione di San Giovanni Maria Vienei, di ricercare i beni eterni e di non confidare nelle illusioni del mondo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dalle omelie di San Giovanni Maria Vienei Il mondo passa e noi passiamo con esso. Il re, gli imperatori, tutto passa. I santi non erano attaccati ai beni terreni. Pensavano solamente a quelli celesti. Noi, al contrario, non facciamo altro che pensare al presente. Bisogna fare come i re. Quando stanno per essere detronizzati, spediscono i loro tesori nel luogo dove intendono rifugiarsi. Là, i loro tesori li aspettano. Allo stesso modo, un buon cristiano manda tutte le sue buone opere in cielo. Il buon Dio ci ha posto sulla terra per vedere come ci comporteremo e se lo ameremo. Tuttavia, nessuno resta al mondo per sempre. Se riflettessimo su questo fatto, alzeremo continuamente lo sguardo verso il cielo, che è la nostra patria. Noi, però, ci lasciamo trascinare di qua e di là, dal mondo, dalle ricchezze, dai piaceri. Guardate i santi, come erano distaccati dal mondo e da tutte le cose materiali. Come guardavano tutto ciò con disprezzo. Un religioso si trovò dopo la morte dei genitori in possesso di cospicue sostanze. Quando ha prese la notizia, chiese «Da quanto tempo sono morti i miei genitori?» Da tre settimane li risposero «Ditemi, una persona che è morta può ereditare?» «No, di certo». «Sta bene. Allora non posso ereditare da coloro che sono morti da tre settimane. Io che sono morto da vent'anni». «La terra è come un ponte per attraversare un fiume. Serve solo a sostenere i nostri piedi. Noi siamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo, già che tutti i giorni diciamo «Padre nostro che sei nei cieli». Per avere la nostra ricompensa, dobbiamo pertanto aspettare di essere a casa nostra, nella casa del Padre. Preghiera conclusiva Il santo curato d'Ars era solito dire che nella preghiera benfata i dolori si sciolgono come neve al sole. Eleviamo quindi con fiducia la nostra preghiera a Dio, dicendo insieme «Ascoltaci, oh Signore». Perché nella Chiesa si riscopra il profondo valore della confessione e della direzione spirituale per un graduale progresso nella vita cristiana, preghiamo «Ascoltaci, oh Signore». Perché l'Eucaristia, rinnovata per la remissione dei peccati e adorata come presenza reale di Cristo Gesù, sostenga il cammino di fede e di amore della nostra comunità parocchiale e di ciascuno di noi. Preghiamo «Ascoltaci, oh Signore». Perché i sacerdoti vivano con amore il ministero al quale sono stati chiamati e con la grazia dei sacramenti santifichino il popolo loro affidato. Preghiamo «Ascoltaci, oh Signore». Perché il Signore conceda alla sua Chiesa il dono di numerose e sante vocazioni sacerdotali che, seguendo l'esempio del santo curato d'Ars, siano instancabili nel dono di sé a servizio di Dio e dei fratelli. Preghiamo «Ascoltaci, oh Signore». Con spirito filiale rivolgiamoci a Dio nostro Padre con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indure in tentazione ma liberaci dal male. Amen. O Dio onnipotente e misericordioso che in San Giovanni Maria Vienney ci hai offerto un mirabile pastore pienamente consacrato al servizio del tuo popolo per la sua intercessione e il suo esempio fa che dedichiamo la nostra vita per guadagnare a Cristo i fratelli e godere insieme con loro la gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Giovanni Maria Vienney prega per noi.